E' andato bene da questo punto di vista, è andata bene. I proprietari di questa abitazione di Breda di Piave sono consapevoli che quanto accaduto nel pomeriggio di domenica poteva avere conseguenze ben più gravi. Sono le 16 quando nella frazione di Saletto scoppia quello che appare il classico temporale estivo. Poi all'improvviso una saetta colpisce l'antenna di questa abitazione di via Montegrappa e si propaga al camino che esplode letteralmente. E' entrata in casa praticamente, ha fatto scoppiare il muro dove c'era la scatola di derivazione dell'antenna. All'esterno sono ben visibili, segni lasciati dal fulmine sul muro, sparsi intorno, pezzi di camino. I frammenti hanno raggiunto il giardino dei vicini, in frantumi il nuoto posteriore dell'auto parcheggiata davanti alla loro abitazione. Scoppiando il camino i detriti sono arrivati anche nelle proprietà confinanti. Tanta la paura nella casa colpita dal fulmine.